Musica Martedì 9 maggio, San Pacomio, è il 129esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 236 al termine. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.27. La luna si leva alle 19.02 e tramonta alle 5.23. Partita di calcio in Campo Santo Stefano a Venezia. Il pubblico tifa maledettamente per le due squadre in lizza, denominate Partito del Monte e Partito del Piano. Il gioco è vivacissimo, entusiasmante. I giocatori tengono le braccia rigide e aderenti ai fianchi, come era prescritto dal regolamento per evitare falli di mano. L'incolumità degli spettatori è salvaguardata da una grossa rete di spago. Ciò non impedisce che il ballone colpisca in pieno uno di essi, certo Domenico Franco di anni 56, accoppandolo seduta stante. Le previsioni per domani. Tempo da variabile a stabile. Cielo in prevalenza molto nuvoloso con nubi stratiformi compatte e a tratti soleggiato, specie sulle zone orientali e in alta quota. Residui fenomeni nelle prime ore, in seguito precipitazioni assenti, salvo qualche occasionale piovasco o breve rovescio sulle zone montane. Temperature massime in ulteriore calo, minime stazionarie. Venti nord orientali inizialmente tesi, specie sulla costa. In seguito ventilazione in calo fino a venti deboli.